Bene bentornati oggi in questo nuovo video che sarà il primo episodio di una nuova serie che andrò a portare qua sul mio canale dove andremo a parlare di pappagalli un po' particolari quindi non sarà una guida da cura ma saranno semplicemente video informativi su queste specie tutte informazioni potete trovare anche su internet quindi non è che vi vada a dire chissà cosa però naturalmente qui le trovate tutte racchiuse in un video e ne parliamo insieme quindi magari sarà un po' più divertente che andare a cercarle su internet magari, poi non lo so quindi assolutamente non è una guida da cura su come tenerli in cattività è soltanto quindi una serie dove parliamo di qualche specie, di qualche pappagallo un po' più particolare e andremo a vedere bene le loro particolarità e caratteristiche principali spero che questa tipologia di video vi piaccia e oggi partiamo veramente con un pezzo grosso uno dei miei pappagalli preferiti che è il cacatua delle palme lo avete visto in copertina nel titolo del video il probosciger aterrimus è uno assolutamente dei pappagalli più belli almeno per me è veramente elegantissimo con questo colore nero, con queste guance rosse fanno questo contrasto assurdo poi è un cacatua di dimensioni esagerate ora andremo a vederlo meglio però è veramente un pappagallo elegantissimo insomma è un pappagallo che o piace o non piace è così particolare proprio nelle sue forme che insomma o piace o non piace a me piace tantissimo non è il mio preferito però è veramente forse il pappagallo più elegante di tutti è spettacolare è un pappagallo quindi con questa colorazione tutta nera con queste guance rosse fanno un contrasto assurdo e questo becco veramente grande con un colore che tende quindi al grigio molto scuro ha dimensioni veramente notevoli e infatti è il cacatua più grande di tutti quindi nella famiglia dei cacatua lui è la specie più grande è l'unico nel suo genere per Boschiger però ha quattro cioè si trova in quattro sottospecie che si differenziano tra loro principalmente per le dimensioni e per dove sono collocati comunque si parla di un pappagallo australiano e si trova quindi australiano in nuova guinea però poi le sottospecie sono un po' distribuite appunto tra australia e nuova guinea è un pappagallo veramente enorme come la sottospecie più grande arriva a 75 cm di lunghezza e fino a un chilogrammo di peso cioè è un pappagallo gigantesco se ci pensate perché comunque ha la coda corta quindi non è tutto coda quindi dice vabbè 75 cm ma di metà è coda cioè di pappagallo ce ne rimane poco e no, lui è proprio tutto, è proprio enorme quindi le sue dimensioni sono davvero notevoli e per questo appunto è il cacatua più grande di tutti ha anche un altro primato ovvero di avere il becco più grande di tutti quindi è il pappagallo con il becco più grande di tutti quindi non solo il cacatua ma di tutti e questa cosa è incredibile per questo è un pappagallo veramente particolare perché ha due primati molto importanti direi quindi abbiamo detto un pappagallo molto grande e di conseguenza è anche un pappagallo molto longevo la maturità sessuale raggiunge intorno a 10 anni quindi abbiamo già detto tutto quindi vita media in natura intorno ai 60 e in cattività si va bene oltre perché sì, è un pappagallo che si può trovare anche in cattività e in Italia non so se qualcuno ce l'abbia magari se vuole sapere scrivetelo sotto nei commenti però in tutto il mondo quindi si trova anche in cattività magari ne parliamo meglio dopo parliamo del dimorfismo sessuale è un pappagallo che non presenta questo dimorfismo molto accentuato però lo si vede dalle dimensioni quindi il maschio tendenzialmente tende ad essere più grande della femmina quindi la femmina un po' più piccola è un po' tutta meno grande cioè anche il becco un po' più piccolo un po' più di dimensioni ridotte e anche di peso quindi messi a confronto si possono naturalmente riconoscere non è molto spiccata questa differenza però diciamo che c'è è un po' come il pappagallo del Senega che ha il maschio, questo capone, questo beccone molto più grosso diciamo più robusto la femmina è un po' più snella è un po' più quindi regolare il maschio ha un po' questo capone un po' sproporzionato rispetto al resto del corpo dove vive? quindi si è detto che vive in Australia e in Nova Guinea è un pappagallo quindi che vive tendenzialmente nelle foreste nelle foreste, nelle savane è un pappagallo che vive in piccoli stormi quindi massimo otto esemplari quindi un pappagallo abbastanza solitario quindi vive principalmente in coppia però si riunisce in questi piccoli stormi di circa otto esemplari non è un gran volatore data anche la sua mole quindi non è un pappagallo che ama volare quindi ha un volo molto lento, molto affaticato quindi non è un pappagallo che ama volare che si vede proprio volare nel cielo sono dietro ad annunciarvi che non è un pappagallo a rischio di estinzione quindi non è minacciato naturalmente ha risentito un po' della deforestazione dell'impatto dell'uomo però questo non ne ha diciamo causati per ora troppi problemi è comunque un pappagallo che è stato molto tutelato nel corso del tempo dalle esportazioni, quindi dalle catture e dalla caccia perché veniva anche cacciato proprio per la sua carne quindi il pappagallo è stato comunque difeso e per questo non è attualmente a rischio di estinzione per fortuna speriamo che possa continuare così anche in futuro la sua alimentazione è molto varia quindi si parla di fioli, bacche, quindi frutta, semi, insetti quindi un'iniziazione veramente varia e quindi come i pappagalli si arrangiano un po' a mangiare tutto quindi alimentazione veramente molto molto variegata quindi come si diceva prima è un pappagallo che si può trovare anche in cattività naturalmente non è molto diffuso è un pappagallo comunque abbastanza particolare e come tutti i cacatua è un pappagallo anche di gestione molto difficile non solo per le sue dimensioni non solo per le urla perché comunque i pappagalli fanno molto rumore ma proprio perché i cacatua in sé sono molto complessi proprio nella loro gestione perché sono pappagalli veramente intelligenti veramente sensibili e sì che la sua gestione da quello che ho letto insomma è molto difficile proprio perché sono pappagalli molto sensibili che hanno bisogno di tantissime attenzioni sono pappagalli molto apprezzati cacatua in generale come animali pet da compagnia e quindi sicuramente ci sarà qualcuno che lo apprezza molto come animale quindi pet però spero un giorno di poter parlare con qualcuno che ha avuto esperienza con questo bellissimo pappagallo e magari fare una guida alla cura magari in futuro non è un pappagallo solamente che si vede nelle case e che uno dice oh toh quanto vorrei averlo sì magari si pensa che bello sarebbe però effettivamente un pappagallo è anche proprio difficile da vedere figuriamoci da avere e assumendo un pappagallo è veramente bellissimo elegantissimo e spero un giorno di poterlo vedere dal vivo perché non ho mai visto uno dal vivo e sarebbe veramente fantastico e niente spero che questa tipologia di video possa piacervi naturalmente ci sono tantissime cose poi da dire sul comportamento in natura cose varie però questo ve lo lascio a voi da andare quindi a approfondire vi è tanto trovate tantissime cose su internet qui andiamo a parlare un po' delle aspette principali delle caratteristiche che lo rendono un po' più particolare come aveva detto i suoi primati e niente spero che questa tipologia di video possa piacere di andare a trattare insieme qualche specie un po' particolare quindi come questa e se vi piace lasciate un commento quindi un mi piace iscrivetevi al canale e ho già pensato al pappagallo del prossimo video e è un po' più conosciuto diciamo però ha una particolarità insomma che lo rende abbastanza comunque importante e non voglio fare spoiler ma lo vedrete nel prossimo video detto questo spero che questo video vi sia piaciuto spero che questa tipologia vi piaccia vi lascio come sempre tutto qua sotto in descrizione e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video e ciao a tutti